Quest'anno continua la riproposta di compositori della prima metà dell'Ottocento e la mission di questo festival fa riscoprire della musica che a quell'epoca ebbe un grandissimo successo. Erano oltre i 50 i compositori italiani e tutto un patrimonio italiano, quello che stiamo restituendo al grande pubblico, che venivano osannati. Ogni sera nei teatri storici della nostra penisola c'erano tante esecuzioni e quindi c'era richiesta e c'era tanta composizione. La storia poi ha lasciato solamente Rossini, Donizetti e Bellini, sicuramente tre big assoluti, però va la pena restituire all'ascolto del grande pubblico anche questo numero immenso di compositori. Il festival, nelle prime due edizioni, ha già riportato alla luce musica di oltre 40 compositori. Quest'anno l'opera che riscopriamo è La casa disabitata del compositore maceratese, Lauro Rossi, ed è proprio questo compositore che sarà il main composer del festival, ossia di lui eseguiremo diverse cose. Quest'anno poi è un anno particolare con la capitale italiana della cultura, Su Pesaro, e quindi abbiamo pensato di fare un secondo focus, in questo caso su Nicola Vaccai, grandissimo compositore pesarese, di cui ancora oggi si studia canto attraverso il suo metodo, ma di cui ci piacerebbe riportare alla luce, non dico tutte le 17 opere, però tanta musica, perché è davvero molto molto bella. Quindi opere, concerti, concerti dai balconi, due concerti dai balconi in programma, uno dal balcone di Casa Rossini e l'altro dal balcone della Casetta Vaccai. Poi c'è una nuova collaborazione, quella con l'Associazione Dimore Storiche Italiane, con la quale abbiamo allargato il festival, perché questa associazione organizzerà tre weekend in dimore bellissime del nostro territorio, da giugno fino ad agosto. Quindi si partirà il 14 giugno da Cagli e si terminirà il 21 settembre fabriano con l'ultima esecuzione del nostro programma del Bel Canto Ritrovato.